Benvenuti su Medicina e Informazione Web TV. Prima di assumere un farmaco, cosa facciamo di solito? Leggiamo il bugiardino o chiediamo al medico o al farmacista quali possono essere gli effetti collaterali, se dobbiamo assumerlo a stomaco pieno o a stomaco vuoto, se può dare problemi in caso di assunzione di altri farmaci. Ecco, proprio l'assunzione contemporanea di più farmaci, quella che viene chiamata politerapia, è una condizione che nelle persone over 65 è estremamente diffusa a causa di comorbidità come ipertensione, diabete, ipercolesterolemia o altre patologie croniche e richiede quindi alcune accortezze. Delle regole, diciamo così, per evitare interazione fra farmaco e farmaco o fra farmaco e cibo, per evitare di interrompere la terapia perdendo quindi efficacia, per non commettere errori nell'assunzione. Proprio per aiutare pazienti e caregiver nella gestione quotidiana dei farmaci, Italia Longeva ha realizzato un decalogo con dieci semplici regole che possono aiutarci ad assumere correttamente la terapia. Ne parliamo con i nostri ospiti ed inizio dal professor Bernabei che scatta per lui una fotografia della politerapia. Lo sappiamo tutti, l'Italia è un paese vecchio, è uno dei paesi più vecchi del mondo, il secondo dopo il Giappone e pochi giorni fa l'Istat ha dato i numeri di questa vecchiezza del paese, ormai siamo al 24 per cento degli ultra 65 anni, ma quello che mi interessa comunicare è il numero dei centenari, ci sono 17.177 centenari, all'inizio del secolo scorso erano 46, però vedete come oggi il numero è oltre i 10.000. Cosa curiosa, quanti sono i super centenari, i centodecenni? Sono 17. A dire che il cut off, il momento dove probabilmente la macchina non ce la fa più e quindi è inutile pensare a cifre importanti di invecchiamento è appunto dopo i cento anni. La cosa però che ha detto l'Istat credo ulteriormente importante è il numero dei novantenni, sono 805.000, 805.000 novantenni è uno sproposito, è un numero pazzesco, anche perché questi novantenni sono prevalentemente donne e configurano quella che è la novità del panorama clinico di questi anni. Con un mucchio di problemi, la cosiddetta multimorbilità, ci hanno 4, 5, 6 malattie insieme e arriviamo a questo video, devono fare un mucchio di farmaci. Oggi un anziano su tre fa 10 farmaci e se hai più di 80 anni la metà è sicuro che ne consumi oltre 10. E allora questo ci deve dire che dobbiamo cominciare a ragionare in modo diverso e a far sì che questo numero di malattie ma soprattutto questo antissimo numero di farmaci siano prescritti da una parte ma assunti dall'altra con il massimo della certezza. Se si fanno 10 farmaci io ne faccio uno al giorno e spesso me lo dimentico, figuriamoci quando uno deve fare un numero ben maggiore. E allora primo fatto decisivo è l'informazione. Bisogna sapere cosa stai facendo, bisogna chiedere il più possibile ma dice mi hai dato un farmaco per il cuore, questo serve per il cuore. Beh cos'è un beta bloccante, un sartano, perché? E questo è il primo movimento fondamentale con il tuo medico. Secondo essere rassicurato sulle novità. Oggi ci sono i farmaci equivalenti che sono assolutamente identici a quelli che normalmente prescritti di cui siamo magari attratti o affascinati dal nome che conosciamo da un mucchio di tempo. E questo è un altro pezzo del quadro informativo. E la terza cosa è che deve essere condivisa questa informazione. Deve tutta la famiglia, possibilmente il cosiddetto caregiver, cioè la persona che sta più vicino al paziente, deve essere coinvolto e averci lo stesso bagaglio di informazione in modo tale da essere preciso nella gestione di questi farmaci. Non sto a dire quanto possono essere utili i contenitori che settimanalmente possono essere imbustati con le diverse prescrizioni a seconda delle ore. Per dire che possono esserci anche una serie di trucchi che aiutano, ma intanto essere padroni di un'informazione corretta. Uno scenario complesso, come abbiamo sentito, ed è importante che l'assunzione di un farmaco non vada in contrasto con altri farmaci o con gli alimenti che ingeriamo. Sentiamo su questo il professor Landi. Come abbiamo visto per il caregiver, cioè per chi assiste un anziano, un anziano fragile, in qualunque setting assistenziale, in particolare a casa, la somministrazione delle medicine è un atto estremamente importante. È un atto importante perché è la cura della persona che stiamo assistendo, ma al tempo stesso può creare anche dei problemi. Perché può creare dei problemi? Perché il paziente che noi assistiamo, che voi assistete, molto spesso capita che vada al medico di medicina generale, che poi vada allo specialista, che vada al cardiologo, che vada allo pneumologo, cioè che vada a tanti medici e ognuno fa la propria prescrizione. Quindi voi vi trovate di fronte a tante ricette, a tanti farmaci che vengono assunti ovviamente quotidianamente a più riprese, cioè non solo farmaci diversi, ma anche farmaci che devono essere assunti più volte durante il giorno. E questo è un atto di grande responsabilità. Il problema è che esistono delle interazioni farmaco-farmaco. Cioè un farmaco per la pressione può per esempio interagire con un farmaco antinfiammatorio, al contrario un farmaco dato per l'artrosi può interagire con il farmaco antinfiammatorio. Quindi immaginiamo di avere tre, quattro farmaci e immaginiamo quanto questa interazione, questa quantità di interazioni, sia di fatto esponenziale. E poi l'altro dato che sono sicuro che ognuno di voi ha chiesto sempre al medico o ai familiari, al figlio o alla figlia, quando deve assumere il farmaco? A digiuno? Prima dopo il pasto? È una domanda legittima perché noi sappiamo che tutti i farmaci possono avere un'interazione con il cibo e con l'assunzione quindi di alcuni principi importanti come per esempio gli elettroliti, come per esempio le vitamine. Ma al tempo stesso il cibo può interferire appunto con l'assunzione di, in qualche modo, dei farmaci. Quindi rendendoli a volte più efficaci e a volte meno efficaci. È chiaro che tutto questo ovviamente vale anche per i farmaci equivalenti. Perché noi sappiamo che i farmaci equivalenti sono esattamente uguali ai farmaci che notoriamente sappiamo, che notoriamente prescriviamo e che quotidianamente utilizziamo. Importante, se hai dei dubbi non mandiamoli indietro, portiamoli in evidenza perché i dubbi nell'ambito della terapia farmacologica sono importanti. Se vediamo che per esempio la pressione durante l'estate si abbassa troppo è probabile che ci sia un'interferenza del farmaco, per esempio, con l'ambiente. Quindi è estremamente importante non sottovalutare quelle che sono delle condizioni che eventualmente, per esempio durante l'estate o anche poi durante l'inverno, in qualche modo noi le osserviamo modificate nel nostro anziano. E dobbiamo tenere presente quelle che possono essere le implicazioni della terapia farmacologica. Quindi è importante discuterne certamente con il medico, è importante discuterne anche per esempio con il farmacista e quindi questo è un discorso, è un approccio che in qualche modo riguarda veramente il team interdisciplinare, compreso il caregiver. Arriviamo ora al decalogo vero e proprio di Italia Longeva per una corretta assunzione delle terapie e ce ne parla il professor Onder che ci aiuterà a fissare alcuni punti cardine per assumere correttamente tutti i farmaci che ci sono stati prescritti. Tutti abbiamo assunto dei farmaci nella nostra vita, è un compito relativamente semplice, ma pensate quando questa assunzione viene ripetuta tante volte al giorno per tanti farmaci e tante somministrazioni. La possibilità di errore c'è ed è consistente, soprattutto nelle persone anziane che non solo prendono tanti farmaci, ma possono avere difficoltà nel ricordare come prenderli, nel gestire la terapia stessa. Per questa ragione è importante seguire alcune regole fondamentali per una corretta assunzione della terapia farmacologica. La prima regola è tenere una lista aggiornata di tutti i farmaci che si stanno assumendo. Questa lista deve includere necessariamente i farmaci prescritti dal medico di umicina generale, così come quelli prescritti dallo specialista, gli integratori, i farmaci da del banco, cioè quelli che possiamo prendere in farmacia senza prescrizione. Questa lista deve essere aggiornata costantemente e tenere conto delle variazioni della terapia nel corso del tempo. Seconda regola importante, sapere per quale ragione si assumono i farmaci, qual è il motivo, la malattia, la condizione per cui si assume una certa medicina o un certo farmaco. chiedetelo al vostro medico e siate informati su questo. Terza regola, essere sicuri che il proprio medico conosca tutti i farmaci che si stanno assumendo, siano questi farmaci prescritti dal medico di umicina generale o dallo specialista, integratori o farmaci da banco e discutere, discutere periodicamente col proprio medico della terapia che si sta assumendo. Chiedere se tutti questi farmaci o se i farmaci che si assumono sono realmente indispensabili, se qualcuno può essere evitato, se i farmaci interagiscono fra di loro, vale a dire se l'effetto di un farmaco possa essere potenziato o ridotto dall'assunzione contemporanea di un altro farmaco. E soprattutto chiedere al medico se i farmaci possono essere sostituiti con degli stili di vita corretti. È possibile ridurre il dosaggio della terapia per il colesterolo facendo attività fisica o ridurre la terapia antipertensiva o quella per il diabete avendo degli stili di vita corretto? Ecco, questi sono aspetti da discutere col proprio medico. Apriamo ora un altro capitolo, quello dei farmaci equivalenti o generici. Sarà capitato a tutti che il medico prescriva o il farmacista consigli un farmaco equivalente o generico. Veniamo quindi a quella che è la quarta regola. Considerare l'assunzione e chiedere al proprio medico e al farmacista se è opportuno e possibile utilizzare un farmaco equivalente o generico. Sono farmaci in tutto e per tutto identici ai farmaci di marca. Stessa efficacia, stessa concentrazione, stessa qualità di farmaco. Ma hanno un vantaggio, costano decisamente di meno. Quindi chiediamo, chiedete al vostro medico, al vostro farmacista se è possibile assumere uno di questi farmaci. Quinta regola, condividere con i propri familiari o con le persone che ci aiutano nell'attività di tutti i giorni la gestione dei farmaci. Farsi aiutare a ricordare gli orari di assunzione dei farmaci e le modalità degli stessi. Queste persone ci possono aiutare sicuramente nel gestire in modo migliore la nostra terapia farmacologica. Sesta e ultima regola, evitare di interrompere improvvisamente l'assunzione dei farmaci e cercare di rispettare per quanto possibile modalità e orari di assunzione. Se abbiamo difficoltà possiamo chiedere al nostro medico se è possibile semplificare il numero di pillole che stiamo prendendo. È possibile anche utilizzare quei blister, quei contenitori settimanali per l'assunzione delle compresse oppure le app del cellulare che ci ricordano giorno per giorno, ora per ora, l'assunzione dei farmaci. In conclusione torniamo dal professor Bernabèi per una sua riflessione finale su quanto abbiamo ascoltato fin qui. E finisce qui la carrellata che abbiamo fatto su questa necessità, quella di sapere il più possibile e di averci il massimo di informazioni sui farmaci e su come il più intelligentemente possibile assumerli. Questo è uno sforzo che speriamo che vi aiuti nella gestione di tutti i giorni perché la politerapia se la conosci la assumi normalmente e fai quello che il farmaco vuol fare, cercare di curare al meglio possibile. Se il farmaco non lo assumi o lo assumi male è evidente che anche lui, poveraccio, non riesce a ultimare il suo compito. Io ringrazio i nostri ospiti per averci fatto meglio comprendere quanto sia importante assumere correttamente una politerapia e come alcuni semplici consigli possono aiutarci ogni giorno. Ringrazio anche voi per essere rimasti in nostra compagnia e arrivederci qui su Medicina Informazione Web TV.